Grazie per essere venuti, come state? Tutto bene? Bene, bellissimo. Faremo un grande concerto per voi perché ve lo meritate, molto bello che dal palco vederli, grazie. Il nostro brano è una canzone che ha un po' deciso il mio futuro di musicista, in quanto non avrei mai pensato di varcare i confini oltre l'Italia.